Con grande ottimismo e serenità mi accingo ora a raggiungere la Chiesa Pratese, che conosco ricca di risorse umane e spirituali, capace di intraprendenza e creatività pastorale. Queste le prime parole che Monsignor Franco Agostinelli ha rivolto alla Diocesi di Prato nel giorno dell'ufficialità della sua nomina a Vescovo. In un messaggio letto da Monsignor Simoni ai vicari episcopali, ai direttori degli uffici diocesani e ai laici rappresentanti della comunità ecclesiale, il nuovo Vescovo ribadisce un concetto caro al suo predecessore, è tempo di uscire dal Tempio, incontrare la gente laddove vive e opera e annunciare Cristo. Il primo pensiero va agli immigrati con l'invito a farsi loro compagni di viaggio nel cammino di integrazione, alle autorità civili e politiche con le quali vuole avere l'obiettivo di lavorare per il bene comune e il progresso della società. Monsignor Agostinelli saluta i giovani ai quali vuole essere vicino nella ricerca di ciò che resiste all'usura del tempo, poi le famiglie, i lavoratori e gli imprenditori, per loro esprime solidarietà, vicinanza e comprensione. Vorrei dire a tutti i miei amici pratesi, posso chiamarli già così amici, perché io li sento tali, sono nato in mezzo alla gente e in mezzo alla gente voglio stare e quindi vorrei salutarli tutti, avrò il motivo e l'occasione meglio dire di salutarli anche uno a uno e vorrei dire loro che il mio intento è di camminare insieme a loro, però ecco io vado a Prato e lo devo dire a tutti i pratesi con ottimismo e così anche con una consapevole allegria, ecco mi consenta questa espressione come ho scritto nel messaggio che ho inviato alla città di Prato. A presto allora.